Musica Vi risparmieremo la vita Sono sicuro che viste le circostanze farete la scelta giusta Non badate a quelle stronzate, il loro contrattacco è imminente Sparpagliatevi e coprite l'accesso a sud Signore, salgono lentamente su per la collina Aspetta ordini Scondete nel villaggio, siete circondati Non avete via di scampo Arrendetevi e sarà tutto più facile anche per voi Via Fuoco Bel colpo amico Squadra, mantenete la posizione Il nevico ci ritiene molto più numerosi Sì Stanno creando una cortina comogena. Mek, vedi qualcosa? Poco movimento sulla strada. Forse si stanno portando ad ovest. Vogliono attaccarsi con i mortai. È il momento di ripiegare. Bene. Sop, mettiti alla mitragliatrice leggera e copri il fianco ovest. Vai! Due in ritirata. Tre in movimento. Tre arrivato. Due all'interno dell'edificio S. Strada orientale bloccata. Sop, vai alla mitragliatrice leggera. Sveto! È sull'elicottero schiantato! Sop, ritirati nella taverna e azione. Usa i detonatori. Noi li teniamo occupati fino al prossimo fronte difensivo. Muoversi! Sop! Vai via dalla mitragliatrice! Ci ritiriamo! Sop! Usa i detonatori. Ce ne sono quattro nella taverna. Aspetta! Avvistati carri armati in avvicinamento alla nord! Oh, merda! Mi hanno colpito! Me che nei guai! Sop, vai al sienile nella periferia nord del villaggio e ferma quei carri. Usa il javelin che troverai sul posto. Sop! Il javelin è nel sienile! Sveto! Sveto! Sono a secco! Ricarico! Sop! 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 bravo sei qui in palco l'uno in attesa per fornire il supporto aereo ravvicinato passo bravo sei qui in griffon 27 siamo appena entrati nello spazio aereo dell'azerba igiana arrivo previsto in quattro minuti pronti al prelievo ricevuto pronti per il raid aereo bravo sei l'area di interraccio è troppo pericolosa non possiamo sterrare alla fattoria ripeto non possiamo sterrare rileviamo troppe installazioni sam sui monti circostanti cos'è hanno bevuto siamo impazziti per arrivare all'area di atterraggio e ora vogliono farti tornare indietro lascia perdere dobbiamo raggiungere la nuova area ai piedi della collina subito so vai avanti via bersaglio confermato pronti per il raid aereo ricevuto 27 tutti all'area di atterraggio la nostra unica speranza date ricevuto pronti per il raid aereo bravo sei abbiamo poco carburante ma siamo quasi arrivati raggiungeteci entro tre minuti o dovremo partire senza di voi basso ci lasceranno qui dobbiamo raggiungere l'area di atterraggio vediamo Ricarico! Versaglio confermato, pronti per il raid aereo. A mette due minuti in basso. Ricevuto, ci muoviamo. Dobbiamo affrontarli per arrivare all'area di atterraggio, continuate a scendere. Andiamo, andiamo, su per la collina! Andiamo, andiamo! Un minuto alla partenza! Ai piedi della collina! Forza! Forza! Mi hanno detto che vi serviva uno strappo! Tutti a bordo, svelti, svelti! Andiamo, andiamo! Ok, siamo tutti a bordo! Via, via! Ok, ce ne andiamo! Faceplate, weekly for 2-7! Sono tutti a bordo! Torriamo a casa! Per seguito! Abbiamo preso il bastardo! Comunque, non è lui il responsabile della morte dei vostri marini. Mi spiace! Imran Zakaev, eh? L'uomo è un fantasma. Introvabile, secondo l'intelligence. Io ho un piano per trovare. Vi ascolto. Vicino di papà. Il figlio di Zakaev, comandante operativo delle forze ultranazionaliste. Le belle non cadono mai lontano dall'albero. Il lealista Kamarov sa dove possiamo trovarlo. E questo piccolo delinquente saprà come trovare Zakaev. I peccati dei nostri padri. Ma quanto è stronzo! Questa è la strada migliore. Il posto.